Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sino Capacci, una giornata importante per ricordare questo dramma e ovviamente siamo qua dalla polizia che è sempre in prima linea su tutto questo fronte. Siamo stati precedentemente all'iniziativa dello Zonta per la panchina rossa e ora siamo qua, è un'iniziativa assolutamente meritevole e di pregio per la quale mi complimento e mi congratulo con il signor questore, quella di mettere appunto un gazeppo, uno stand pubblico in Piazza Bianchi a Imperia nel quale poter prendere informazioni sul tema specifico, la violenza sulle donne infatti è anche distribuito un opuscolo, direi molto interessante che inviterei tutte le persone appartenti al sasso femminile di ritirare e poi perché comunque è il segno di una presenza costante di vigilanza sulla città e sul territorio.